il rabbiolo adesso arriva il donno, le rubiamo uno e lo soggiamo ciao amore posso? mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia leo sediti qua, lascia il nonno mangiare, come fa il nonno mangiare vedi? come è arrivato piccolino ma ragazzi state mangiando come delle fogne, un attimo, per favore mamma, guarda, guarda però non trovano nessuno le noccioline vai a vedere il regalo del nonno, cammina cammina vai estar qui mangiare per pareo mesi non ri coppia mat Francesco vuole fare serata? Fuori di festa, fuori di tempo. E' il mondo più bello del mondo, che sia la sigla. Ma l'idea di imparare il cinese, in verità, gliel'ho data io per una questione di business. Adesso sto chiedendo anche di imparare l'arabo e il russo. Così li prendiamo tutti e tre. Che facciamo oggi, amore? Allora, oggi devo andare a vedere il grande seregno. Lado a vedere il grande seregno perché ci giochiamo il primo posto, amore. Tutto il resto non conta. Tutto il resto non conta. Io e i bimbi... Io e i bimbi che facciamo? No, i bimbi vanno a mangiare con la mia mamma. Maldive o Asia? Dai! Quello che dobbiamo ancora fare. Guardi! 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 Guardi el mio amore. Dai! 、「 Ci hoberti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.